Sono circa 26.000, tra docenti e personale ATA, gli abruzzesi coinvolti a partire da oggi dall'obbligo vaccinale contro il Covid. Di questi 26.000, i tecnici e amministrativi sono poco più di 5.000. La misura adottata per arginare la quarta ondata e contenere i contagi non sembra aver creato problematiche particolari negli istituti scolastici visitati da Rete 8. Nella nostra scuola siamo a ranghi praticamente completi, nel senso che abbiamo comunque quasi il 99% del personale già vaccinato nei giorni scorsi, nei mesi scorsi. Abbiamo un paio di situazioni che si stanno regolarizzando in giornata, per cui fondamentalmente non c'è stato nessun contraccolpo, non abbiamo dovuto prendere nessun provvedimento di quelli paventati. Non abbiamo una preclusione o un contrasto ideologico forte. Rispetto ai contagi, come siete messi? C'è il rischio di DAD, secondo lei, per questa, ma anche più in generale per la scuola? Guardi, abbiamo fatto una ricognizione proprio nei giorni scorsi. Abbiamo avuto una decina di casi in questi mesi nella nostra scuola, quindi su 1.400 alunni, un numero molto rilevante praticamente, e la cosa che abbiamo constatato è che non ci sono stati focolai nella scuola. Siamo tutti un po' curiosi di capire che cosa accadrà dopo la pausa natalizia. Come vi organizzate per i controlli? La piattaforma è fondamentalmente il nostro punto di riferimento. I controlli avvengono da parte mia, della persona delegata, attingendo le informazioni aggiornate, appunto giorno per giorno, dalla piattaforma del Sidi, e poi ci sono i sistemi di controllo per, diciamo così, evitare che persone non in regola possano entrare a scuola. La situazione equida a noi è molto tranquilla, nel senso che il 90%, anzi oltre il 90% del personale, sia docente che ATA, è regolarmente vaccinato. Il restante 10% ha comunque iniziato il percorso vaccinale, e poi abbiamo alcuni pochissimi casi di docenti, personale educativo in condizioni di fragilità e, di conseguenza, in inidonità temporanea o permanente, stabilita dal medico competente. Noi abbiamo attivato e gestiamo quotidianamente il processo di verifica e di controllo attraverso le rilevazioni del Sidi. Io svolgo questa attività con la forte collaborazione del referente Covid, e proprio per verificare quotidianamente a tutela della salute e della sicurezza di tutti. Devo dire che il personale del nostro istituto ha vissuto con grande tranquillità questo momento, diciamo questo momento di passaggio, questa data del 15 dicembre, anche perché devo dire che non abbiamo tutt'oggi nessun caso positivo, né tra studenti, né tra docenti, né tra persone alleate, e non abbiamo nessuna classe in quarantena. La nostra realtà scolastica è particolarmente complessa dal punto di vista organizzativo e gestionale. Noi abbiamo i laboratori che sono un po' il cuore pulsante della nostra scuola, e anche lì svolgiamo un'intensa attività laboratoriale, ma anche lì abbiamo adottato delle rigorose misure di sicurezza. La scuola in presenza deve e vuole essere una scuola sicura. L'importante è adottare dei protocolli rigorosi, precisi, rispettosi delle norme che si sono fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, e sentirsi tutti responsabili, ciascuno di noi è responsabile della propria salute e di quella degli altri.